Marco Monforte del circolo di Taormina Giardini Naxos Valle dell'Alcantara cosa avete pensato di realizzare in questa parte diciamo interna in questo spazio interno all'istituto comprensivo Ugo Foscolo di Taormina? Diciamo che è una piccola sfida perché questo è un terreno abbastanza abbandonato però siccome è adiacente alla scuola è proprio un terreno comunale abbiamo pensato che fosse una cosa sia pratica nel senso per fare vedere ai bambini le varie specie botaniche soprattutto su cui adesso poi parlerò più specificamente però la sfida è quella di recuperare uno spazio verde per la scuola che sia a disposizione degli alunni in questo edificio abbiamo sia la scuola elementare che la scuola media e niente abbiamo pensato che questo è un piccolo inizio non è che sia perfettamente come dovrebbe essere un giardino un orto dei semplici però è diciamo un segnale un inizio vorrei che se la scuola riuscisse a portarlo avanti diventasse poi piano piano con acquisizione di nuove piante con consulenze anche un pochino scientifiche perché noi abbiamo anche degli agronomi che ci hanno aiutato abbiamo una trentina di piante diverse e questa volta ci siamo concentrati su un argomento su un tema che è l'orto dei semplici di semplice ovviamente in dal latino simplex significa le piante medicinali in modo particolare poi perché poi c'è l'ortus conclusus che invece è quello dove ci sono le piante da mangiare quello adiacente alla cucina e che è una cosa nata nei monasteri è una cosa molto bella perché queste piante si sono sia medicinali che officina e che quindi officinali ma anche aromatiche aromatiche hanno uno spettro di utilizzazione molto ampio e credevamo che era una cosa chiaramente le difficoltà ci sono non ce le nascondiamo perché abbiamo avuto bisogno ci abbiamo messo anche un bel po di volontariato per riuscire a pulire un po con l'aria con l'aiuto della scuola dei professori con l'aiuto soprattutto dei bambini perché ora noi cerchiamo ogni periodicamente di fare venire delle classi magari due per volta e come dire fargli vedere il giardino dargli delle spiegazioni farci aiutare a innaffiare a zappettare e tutte queste belle cose qui speriamo bene un segnale diciamo per me simbolico per rilanciare anche perché la scuola ha problemi dappertutto ma da urmina è un posto un po particolare perché siamo in un momento brutto in cui hanno chiuso una scuola storica molto molto vecchia e anche secondo noi molto solida dicendo che non era agibile insomma hanno lasciato un po correre questa scuola è chiusa quindi i bambini degli elementari si sono dovuti trasferire nella scuola media con i disagi che vuoi immaginare anche di promiscuità e questa storia non si sta non è facile risolverla si parla di costruire un edificio nuovo tra l'altro questo stesso edificio non so se riesci a inquadrarlo è del 1972 quindi un anno prima dell'entrata in vigore delle leggi sismiche non che sia particolarmente pericoloso non voglio fare allarmismi però è un prefabbricato che andrebbe comunque attenzionato e quindi i problemi che hanno tutti in Sicilia diciamo che con questa attività l'Egambiente ha voluto accendere comunque un faro sulla questione della sicurezza dei nostri edifici scolastici occupandosi anche della bellezza che deve circondarli prendiamoci cura della scuola